Ed eccoci in collegamento con Veronica Noseda, collaboratrice di Nautri dalla Francia, Francia che come sappiamo sta per affrontare in un quadro politico diciamo estremamente complesso le elezioni parlamentari anticipate decretate dal presidente Macron. Prima di tutto Veronica, che atmosfera si respira in Francia? Direi che è un'atmosfera molto strana, c'è una parte un po' di panico in alcune frange della popolazione e un'altra parte mi sembra un po' paralizzata, quasi assuefatta a quella che sembra essere una vittoria già preannunciata. In realtà è stata una campagna piena di colpi di scena e i risultati rischiano anche di essere pieni di colpi di scena. Cosa c'è stato? C'è stata una destra neogollista che si è completamente distrutta, disfatta intorno a un conflitto che ha opposto il segretario del partito che ha deciso di allearsi con il rassemblement nazionale di Marine Le Pen e un'ala più moderata. C'è stata una sinistra che ha costruito un'alleanza e che si presenta appunto sotto i colori di un nouveau franc populaire quindi chiaramente il riferimento storico è molto chiaro. Nel 1936 Leon Blum aveva portato al potere un governo di sinistra quando diciamo che il nazifascismo era già così molto presente in Europa. Quindi questa sinistra che cerca di essere unita ma in realtà durante la campagna ci sono stati degli attacchi, dei conflitti interni molto duri. Quindi direi appunto campagna éclair, campagna cortissima, tre settimane, molto dura, forse meglio così perché appunto le parole anche più diciamo più razziste, più xenofone purtroppo si sono già liberate in questa corta campagna e vedremo domenica il risultato insomma. Ecco, stando ai sondaggi che parediano il rassemblement nazionale in vantaggio di circa cinque punti percentuali, il prossimo primo ministro francese potrebbe essere Jordan Barella. Potrebbe, ma anche qui le sorprese rischiano di non essere finite insomma. Cioè la partecipazione al voto dovrebbe essere molto più alta rispetto allo scrittugno precedente, le ultime elezioni legislative che si sono tenute nel 2022. E questo quindi rende più difficile di fare delle previsioni. C'è una parte di un elettorato astensionista che è difficile anche da catturare da parte degli istituti di sondaggio e quindi non saprà, poi non si sa alla fine quando sarà davanti all'urna elettorale quale sarà il suo comportamento. In più siamo in Francia in un sistema molto specifico, è un sistema maggioritario a doppio turno, quindi significa che anche se il rassemblement nazionale avrà un risultato totale probabilmente di intorno ai 35 punti contro il 30% della sinistra unita e il 20% più o meno dei macronisti, ci saranno comunque 577 elezioni direi locali, cioè in ogni circonscrizione ci sarà un ballottaggio. E lì sarà il gioco delle alleanze a decidere tutto. Quindi appunto le sorprese possono essere ancora numerose. Cosa succederà per esempio se ci sarà un candidato del rassemblement nazionale contro un candidato della sinistra? Cosa farà l'elettorato macronista? Farà così ostacolo all'estrema destra come il popolo della sinistra ha fatto negli ultimi vent'anni? Oppure si asterrà? Oppure si dividerà? Sparà metà a metà? Insomma queste sono un po' le domande che ci si pone oggi e appunto il quadro non è ancora chiaro. E per rispondere quindi alla tua domanda Giordain Bardellà ha detto che lui se non avrà una maggioranza assoluta non vorrà essere primo ministro della Francia. Questo quadro come hai detto tu molto complesso potrebbe addirittura portare ad una Francia ingovernabile dopo il 7 luglio? Direi che è quasi l'ipotesi più credibile nel senso che è poco probabile che il rassemblement nazionale abbia appunto questa maggioranza assoluta. Se Bardellà e Le Pen mantengono l'idea di non voler formare un governo se non hanno appunto una maggioranza assoluta per poter appunto votare facilmente le loro leggi cosa succederà? Succederà che Macron dovrà tentare delle alleanze molto improbabili a questo punto perché il panorama politico è così direi quasi radicalizzato cioè ognuno ha costruito delle posizioni quasi inconciliabili con gli altri che sembra difficile poter costruire delle alleanze nel campo direi di sinistra o nel campo diciamo tra la sinistra e il campo moderato o anche tra i macronisti e l'ala più moderata della destra. Quindi rischia di esserci un rifiuto di un governo e lì non si sa cosa succederà. I costituzionalisti dicono che Macron il presidente ha i poteri per o potrebbe dimettersi ovviamente e potrebbero esserci quindi delle nuove elezioni presidenziali sembra molto poco probabile tra l'altro Macron ha riaffermato di non pensare a questa opportunità alcuni forse un po' più drammatizzanti dicono che c'è un articolo della Costituzione che gli permetterebbe in caso di ingovernabilità di avere i pieni poteri quindi ci sarebbe una sorta di presidente ancora più centralizzato quando sappiamo che nella Costituzione l'assetto costituzionale francese il presidente della Repubblica concentra già dei poteri direi eccezionali che ha pochi uguali forse con gli Stati Uniti ma rimane appunto un assetto estremamente centralizzato quindi tante incognite, probabilmente ancora tante sorprese e direi che ci daremo appuntamento probabilmente lunedì per capire cosa succederà nella prossima settimana che ci separa dal secondo turno decisivo appunto il 7 luglio. La prospettiva che tu hai tratteggiato è evidentemente preoccupante non solo per la Francia ma direi almeno per l'intera Europa e staremo a vedere come andrà a finire e ci aggiorniamo a quando sarà il momento. Grazie Veronica Noseda. Grazie a voi, a presto. Grazie a voi. Grazie.